Assunzi l'impegno nel redigere computometrico e produrre copertura finanziaria, entro il tempo congruo che l'ordinamento mi consentiva. A distanza di 12 mesi abbiamo reperito le risorse, determinato la progettazione esecutiva, quella che ci consente di individuare il contraente. Il contraente che vincerà i lavori, vincerà i lavori sulla base di una regola prevalente che è quella del massimo ribasso. Questo è lo spiegamento tecnico della vicenda. Adesso sono molto soddisfatto di poter dire che in queste case dove vivono famiglie titolari di diritti e di dignità, finalmente si attiverà un cantiere manutentivo per il risanamento igienico-sanitario. Un risanamento igienico-sanitario imposto dalla condizione assurda dei vani abitativi e degli spazi anche igienici, a causa di una cattiva realizzazione illotempore tra balconi e fioriere. 12 mesi per prendere atto delle misure del problema, per assicurare le risorse finanziarie e attivare le procedure. Voglio ringraziare il direttore amministrativo dell'Ater, il commissario dell'Ater, il dirigente facente funzioni delle politiche abitative della Regione, il comune di Pescara, anche in questo caso si è distinto il vice sindaco di Pescara con alcuni consiglieri che si sono fatti riconoscere e che non sono scomparsi davanti ai problemi. Voglio ringraziare anche la cittadinanza che ha avuto pazienza nell'attendere questo intervento. Adesso sono pronto a spiegare anche al più asino dei rilettori. Grazie.